Nel 2021 sono stati 448 i provvedimenti adottati dall'autorità garante per la privacy, più 56% rispetto all'anno precedente, ben 13 milioni e mezzo di euro il totale delle sanzioni riscosse. Secondo il report annuale, l'autorità è intervenuta anche sulla violazione dei dati personali, 2071 più 50%, molto delle quali relative alla diffusione di dati sanitari, che hanno portato anche a sanzioni. Nel minino del garante anche il telemarketing aggressivo, la maggior parte delle sanzioni applicate hanno riguardato l'utilizzo senza consenso dei dati degli abbonati.